Dopo Centaurus e Pentagon, ora è il turno di Cerberus. L'ultima variante del Covid-19, già scoperta in Abruzzo circa un mese fa dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ora è stata sequenziata anche nel laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti, diretto dal professor Liborius Tupia. In realtà, essendo un caso solo, in questo momento non c'è da preoccuparsi. Diciamo che lo cercavamo da settimane, lo aspettavamo da settimane. Siamo un po' sorpresi dal fatto che Centaurus non si è mostrato e invece Cerberus appare. Cosa significa? Se rimane un caso isolato, niente. Se invece fosse il primo di una lunga serie, vuol dire che sarebbe venuto un po' a cadere il predominio di Omicron 5 e quindi avremmo uno scenario probabilmente di maggiore infettività. Cosa cambia rispetto alle altre varianti? Ormai noi abbiamo imparato a simulare l'infettività sulla base della sequenza e sappiamo bene come si fa. Quindi sicuramente è più infettivo. Dopodiché, però, questo non è detto che sia più pericoloso. Potrebbe essere più infettivo ma meno aggressivo e soprattutto arriva su un territorio che è già pieno di Omicron 5 e quindi potrebbe anche non avere tanto spazio. Certo, arriva nel momento peggiore perché è arrivato insieme al freddo, però maggiore infettività non vuol dire necessariamente maggiore pericolosità. La situazione del Covid nel suo laboratorio per quanto riguarda appunto i tamponi analizzati, qual è? Che percentuale di positivi abbiamo in questo momento? Noi siamo stabili sul 20% sui molecolari, solo sui molecolari ma ormai da mesi. C'è questa prevalenza nella popolazione dovuta al fatto che Omicron 5 si è insediato, ha infettato così tante persone che ovviamente poi queste stesse persone sono rimaste refrattarie al reinfettarsi con lo stesso virus. Per quello dico, finché rimane Omicron 5 stiamo relativamente tranquilli. L'arrivo di nuovi virus potrebbe creare nuovi scenari, però diciamo che rispetto alle altre stati dove c'era un crollo delle infezioni in estate e una risalita vertiginosa a settembre, invece stavolta è rimasto tutto stabile. 20% da maggio a oggi. Intanto dal governo il ministro della salute Orazio Schillaci anticipa che si sta lavorando all'ordinanza che prevede un nuovo cambio di regole per la quarantena dei positivi al Covid. Dopo 4-5 giorni fine dell'isolamento per gli sintomatici, rientro al lavoro anche con una sintomatologia lieve ma comunque dopo almeno 24 ore di assenza di febbre e con mascherine per proteggere più fragili e stoppa i tamponi di fine quarantena. È una scelta politica che tiene in considerazione la necessità di tornare alla normalità e di non perdere ore di lavoro. Sicuramente basta che siamo consci del fatto che un paziente non più sintomatico non è detto che non sia ancora infettivo. Quindi sarebbe opportuno rimetterli nella comunità però magari raccomandare che per qualche giorno stia attento, porti la mascherina perché se no quello esce di casa, infetta un altro che rientra a casa siamo punto e da capo. Quindi diciamo va bene tutto, va bene levare il tampone in uscita però la prudenza la dovremmo continuare a raccomandare. Siamo addirittura ad arrivo per quanto riguarda le prospettive, le proiezioni future che abbiamo per il Covid? Lo vediamo sotto Natale, se non abbiamo il picco drammatico dell'anno scorso vuol dire che finalmente siamo sulla via d'uscita. Quindi al momento non mi sbilancio, aspettiamo Natale che l'anno scorso è stato un momento terribile, quindi aspettiamo quello che succede nel momento in cui la socialità e la stagione portano le persone a stare più raggruppate e poi vediamo. È ovvio che ci auguriamo tutti che stiamo in uscita.